La fibra ottica quella vera perché la fibra misto-rama è già presente da diversi anni. Oggi si comincia a parlare a livello nazionale molto di frequente di fibra ottica vera. Come siamo messi a Formia? Fibra ottica sì o no, croce e delizia per commercianti e aziende ma anche per semplici cittadini che desiderano avere una connessione maggiormente performante, più veloce e sempre disponibile. L'azienda formiana TLC Telecomunicazioni che fornisce servizi in tutta la penisola fa il punto sulla situazione nel Sul Pontino ed in particolare nella città di Formia dove essa stessa ha sede principale. Si sta lavorando per l'implementazione della rete soprattutto nelle zone di San Giulio. L'installazione degli armadi riguarda via Don Luigi Sturzo mentre la zona di Gianola, la Toscauri, ha visto la fibra già partire da diversi mesi. L'obiettivo per la cittadina del Sul Pontino è quello di una copertura del 90% del territorio entro il 2026. Formia è un'area che sarà interessata da un doppio intervento. Per una parte sarà interessata dall'intervento di Open Fiber, per un'altra parte dall'intervento di FiberCop. Open Fiber e FiberCop sono due operatori di rete che si chiamano Wall Sales Only che si occupano esclusivamente di costruire rete. Su questa rete poi tutti gli operatori che si occupano di commercializzare potranno commercializzare i servizi. Il Comune di Formia, come tanti altri comuni, avrà delle parti servite da Open Fiber, dalla rete di Open Fiber e delle parti servite dalla rete di FiberCop. Noi di TLC Telecomunicazioni siamo partner di Open Fiber e di FiberCop siamo addirittura co-investitori, cioè abbiamo aderito ad un'offerta di co-investimento che ci consente di avere un accesso alla rete privilegiato rispetto a chi non ha aderito a questa tipologia di offerta. Alla data odierna la zona sud di Formia, quindi per intenderci la zona di Gianola dove si trova l'ex 7-Up è già coperta e servita dalla fibra di Open Fiber. Invece per quanto riguarda FiberCop il grosso dei lavori ci sarà tra il 2025 e il 2026 ma ci sono alcune zone che stanno già partendo come i lavori che sono in corso nella zona di San Giulio.